Secca vittoria del Filogasso nei confronti del comprensorio Archie che con questa sconfitta si vede risicchiato di nuovo nella zona play-out, mentre per il Filogasso si ripropone la possibilità di poter giocare il play-off visto il pareggio del Brancaleone ed essendo tornato al di sotto dei famosi dieci punti che lo separano dalla terza in classifica. Una partita abbastanza facile per la squadra di casa che è riuscita a portarsi subito in vantaggio per 2-0 con i gol di Cannitello, poi ha provveduto la Ria per 3-0, alla fine c'è stato anche il terzo gol di Cannitello e il gol della bandiera di D'Agostino per quanto riguarda il comprensorio Archie. Quindi un risultato che non ammette discussioni, facile per il Filogasso, un pochettino più complicato ci fa la strada per il comprensorio Archie. A completare la cinquina per il Filogasso ci ha pensato Galiotto.